non ce la faccio più tutto sto lavoro tesoro ma lo sai quale sarebbe la soluzione ci vorrebbe un altro me ne vogliono due dai un tuo clone me lo immagino proprio oh ma insomma uno di voi due mi viene a dare una mano a cucinare che cavolo e no dai lo sai che non sono capace a cucinare e poi è una partita importante non possiamo lasciare dai ma è possibile che in due non ne fate uno no amore guarda mi basti tu mi basti tu io piuttosto vorrei un clone tutte le cose che ho da fare in casa eh sì un'altra te me lo immagino proprio no perché ci avete tutte e due niente lo sai che cosa c'ho no no decisamente no assolutamente ma assolutamente no ciao 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 ciao